Ma noi con le nostre bandiere della pace riusciremo a fermare la pallottola che domani mattina entrerà nella testa di un lattante di otto mesi che finirà nella nostra terapia intensiva di Kabul a fare compagnia agli altri lattanti di otto mesi che stanno lì? Riusciremo a fermare con le nostre bandiere quella pallottola domani mattina? No, però neanche le bombe riusciranno a fermare quella pallottola domani mattina. Noi possiamo fare un'altra cosa, noi possiamo prenderci l'impegno di cambiare la rotta e la logica della guerra che ci fa sembrare che la guerra sia inevitabile. Vi faccio rapidamente un esempio, un centro di maternità che abbiamo costruito in Afghanistan, nel nord del paese. Noi abbiamo 45 donne afghane che lavorano per noi, prima erano chiusi in casa, oggi sono l'orgoglio delle loro comunità. Abbiamo cambiato la condizione delle donne afghane? No, naturalmente no. Ma nei posti in cui siamo, sì, assolutamente sì. E tutta questa cosa in un anno costa quanto? Otto ore della guerra italiana in Afghanistan. La guerra italiana in Afghanistan abbiamo agli ospedali pieni, non ha portato la pace. Ma credo che gli interventi armati abbiano prodotto la moltiplicazione degli interventi armati. Che la guerra abbia svolto il ruolo dell'apprendista stregone, evocando spiriti maligni che gli strateghi della guerra non riescono più a controllare. E' ora di cominciare a costruire la pace come alternativa ai terroristi, all'artigianato e all'industria della strage, della morte, della carneficina. Dall'alto non c'è nulla da sperare, la speranza nasce in questa capacità davvero di coscientizzare, di informare, di mettersi insieme. Se tutto il popolo italiano dice no agli F-35, è chiaro che il Parlamento starà per attento ad andare per un'altra strada. Ed è questo quello che ci manca, è questo popolo che incomincia a muoversi. Questi 30 anni di consumismo e di berlusconismo ci hanno veramente addormentati. 15 miliardi di euro per finanziare gli F-35 sono una specie di guerra non dichiarata fatta alla povertà, alla povera gente, non alla povertà. La Costituzione dice che il cittadino ha il sacro dovere di difendere la patria, però è stata finanziata sempre e solo la difesa armata. Noi diciamo basta, vogliamo il riconoscimento politico e istituzionale della difesa non violenta e siamo in grado di dimostrare che è possibile, che funziona e che è l'unica strada per la pace. I corpi civili di pace forse non fanno notizia e non faranno storia perché impediranno l'avvio delle guerre. In molti parlamentari hanno detto che i pacifisti sono indifferenti alle sorti dei civili, che i pacifisti sono dei codardi e che sono degli irresponsabili. Allora, sull'essere indifferenti alle sorti dei civili, noi da vent'anni stiamo lavorando in mezzo ai razzi. Sull'essere dei codardi, i nostri colleghi in questo momento sono in Iraq, a 20 km dalla linea del fronte, ad assistere i profchi. I nostri colleghi sono in Afghanistan, dove mese dopo mese battiamo record di feriti. E sull'essere irresponsabili, ecco, sono anni che diciamo, ehi, attenzione, il mondo è in guerra, i civili stanno morendo come mosche. Andare in giro a fare la guerra al terrorismo a colpi di occupazione militare, bombardamenti sui villaggi, prigioni segrete, di Guantanamo e di Rendition, non è il modo con cui si combatte il terrorismo. Viceversa. È il modo con cui il terrorismo prospera. È il modo con cui si crea altro odio, altra violenza, altra voglia di vendetta. Il risultato lo vediamo oggi. 13 anni di guerra al terrorismo, ci sentiamo più sicuri? Viviamo in un mondo in pace? Non sembra. Non ricordo un'estate così sanguinosa come questa. Nella complessità del mondo c'è bisogno di documentarsi, di conoscere bene le cose. Cercare di costruire i nostri territori, dei prestiti di pace veri, permanenti, vuol dire anche fare azioni politiche, per sostenere chi, negli ambienti di guerra, cerca di costruire logiche diverse. Ci sono molte resistenze in Italia, tanti cantieri di resistenza che sono molto belli, però siamo troppo divisi. C'è questa incapacità ormai a creare un'unitarietà fra tutte le resistenze, perché solo così riusciamo a riuscire. Il Papa finalmente, vedi il re di Puglia davanti a 7500 soldati, ha avuto il coraggio, la forza e la coerenza di poter dire che il Vangelo è un Vangelo di pace, che c'è un'incompatibilità evangelica tra l'uso della violenza strutturata, tra l'altro in esercito, e poter essere persone che partecipano all'Evangelo di Cristo. Molti dei giovani vivono mai in un mondo virtuale, ma nessuna generazione ha avuto le possibilità tecniche, come questa generazione, per ripensare tutto, dal livello finanziario, economico, tutto deve essere ripensato, per permettere a tutti in questo mondo di vivere, di vivere decentemente. Teniamocene il sorriso perché fa sempre bene, ma andiamocene anche un po' inquieti. E un passo dopo l'altro possiamo veramente cambiare l'orizzonte. Grazie. Grazie.